Bella ragazze e ragazze, se per caso volete aggiungermi come supporto a un creatore su Fortnite per supportarmi indirettamente, basterà andare su Item Shop, supporto a un creatore e scrivere il nome di Croatomist. Accettare e il gioco sarà fatto. Ovviamente ragazzi ringrazio tutti coloro che decideranno di supportarmi. Buona visione! Inoltre ragazzi, con tanta felicità vi volevo annunciare che a gennaio ci sarà l'annuncio del team europeo alla quale sono entrata. Quindi ragazzi fidatevi, preparatevi che ne vedrete davvero delle belle. Sì, al vecchio Dastri che voglio i Filz, tre magazzini, madonna, tre magazzini che bello. Magazzini, fabbriche, retail, c'era proprio, ah, seca. Io mi ricordo che Dastri c'è andavano un sacco di persone e non c'era un c***o l'ultima volta o poco. Il primo che prendeva l'arma ha vinciato. Sì, esatto, però stai calma. Ok, io. No, Ari, c'hai uno nel tetto. Lo so, ma io la vado via. Ciao. Eh, capito. Io sento tipo passi o punta, ragazzi. Anche io, ragazzi. No, 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 ci muoio anch'io qua, così. Ah, non hai altro? No, sicuramente. Yuri, non mi mori almeno tu, però, eh. Te prego io. Però non ho visto. Ehm... Devo sperare che non mi vede, però. Ma ha visto tantissimo, tantissimissimo. Stavo per morire io, Ari. Ragazzi, Sofia, per miracolo, giusto, tu ci sono mai aiutato. Stato uno io. Se no. No, mi è rotto il Ribo. Mi sono prendo. Anzi, è un miracolo se mi salvo io. No, vabbè, c'è frenato. Io mi sto tirando un medikit, ragazzi. Sono bloccato in questa casa. Ma da me c'ho tipo 6.000 persone. Necavita, pure qua da me. No, sono mortissimo. Oh, oh. Yuri, arriva. Una due incazzatissimi qui. Arrivo, Yirella. Una annoccata. Villa di più possibile, se riesce. Non c'ho più materiali. C'è un altro. Bravissimo io. Andiamo ad armi, andiamo ad armi. Oh, che f***ing wreck, bitch. Nei due, Yuri. Nei due, Yirella. A testa? Motto? Non ha più fronte a te. Lo busco, lo buscio. One hit, one hit, one hit, one hit, one hit. Marte. Marto uno. Blu. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Minine, minine, venine di qua. Tutte di questi. Porco demonios. Aspetta che dettori? Ti sei salvato. Hai visto come? Che l'urpi. Che l'urpi sì. Avete colpi piccolini? Ma che ci faccio? No, non c'ho niente. Chi è che sparo? Spara o no sbaglio, ragazzi? Sì. Stiamo rotto. Let's go. Andiamo con un guido a sui Yirella. Eccoli. Dietoli noi. 150, li ho fatto 150 di body shot a 1, eh. Noccato uno, noccato uno, noccato uno, noccato uno. No, regà, mi butto, vado a uccidere il noccato. Dove sono? No, regà, sul troppo. Sopra di voi. Hai rotto. Lo morto due. No, mano, per poterla. Morto due, l'ho scontato, scendi rotto. Morto uno, morto uno, sono due noccati, eh. Morta un altro. Ragazzi, non ci si tratta. Ragazzi, c'è uno qua sotto di me che è sacco. Con lo sniper. Mi tratta un'altra volta a blu. Buon. White. Vaffal'ovo, va. Vaffal'ovo, buono lovo, eh. Buono lovo, gatti. Ah, ragazzi, comunque, gg, c'è, siamo una squadra vincente. Ah, ringrazio per l'aiuto, comunque, ringraziato anche voi, ragazzi. Orello, no, già non sono riuscito manca aiutarlo. Il bello, grazie, nelle chat, dai. No, vi non ho capito, il bello che arrivi, scrive ovviamente, che gli ho detto, guarda che m'ho, attacco lo stream, vado da, vado a giocare con Yuri, è rotto che mi hanno invitato. A 9, serve un quarto, faccio qua. Finalmente ci sarà l'olinova, ma, probabilmente Yuri te invita, perché gli piace comunque il tuo culetto. Oh, vieni a giocare ed è sempre noccato, c'è niente. Sempre a fegora sta, sempre. Vabbè, lui è un po' così, capito? Lui è uno stile di vita, cioè. Ma che è, oh? Aereo. Eh, sì. Ho due pesata aerei. Quando c'è sempre blu, quando c'è sempre blu. Sono sotto blu di nuovo. L'ho caduto uno. Ok, uno è one, brava. Allora, l'altro aereo dietro. Madonna. Ok, sono scesi tutti i ragazzi. Sì, io di sotto l'aereo. Occhio, siamo low groundissimo noi, eh. Faccio io salgo subito, ragazzi. Faccio una scarpa qua. Sono quattro, vedi. Se volete c'è qualcosa fa. Dato uno, tocca. Io sono salito, ragazzi, eh. Ah, arrivo. Morto uno. L'ampo, l'ampo. Sparano da sud, da me. Ho caduto un altro, ragazzi. Brava. Sto io lo chiede, ma. Va bene, è andata. Mi ha caduto un altro? Mi ha caduto un altro? Eh, vabbè, madonna. Ho capito, ragazzi. Oggi ce l'ho proprio durissimo. Eh, volevo dire, scusate. Torello! Ma ancora non è morto. Hai capito? Hai rivisto questa caga che ho provato a fa? Sì. Questa caga voleva usare messo su trucchetto. Oh, BB. Ah, ah. Io non ho knockato uno qua. Io non ho knockato uno qua. Eh, io ne ho messo una. Ah, l'ho messo una. Ah, l'ho messo una. Oh, c'è la prova anche qui. Oh, c'è la prova anche qui. Ciao, almerich. È toccato un altro? Porca miseria. Asciuto. Oh, vabbè, asciuto. Oh, ah. si mettono le strutture ma che cazzo è sto gioco c'è la fai restarla io vado a prenderemo ci sono intanto ragazzi quanto cazzo vai let's go bello nel posto di bronte che ho posto dei ari che la posizione ragazza non sono in safe ma quanto building e ma stai calma ormai sono giocati regala ricostruire torri gemelle guarda riguarda lascia perdere ancora qua quello la prima direi no non sembrano vabbè noi facciamoci fatti i nostri e basta che prova a spaccamere tutto non si è risicato la dica stanno fredando a 120 di noi vogliamo dare con l'aereo andiamo con l'aereo prendimi tutto 50 le vita a serio no 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 anzi vabbè la famiglia minimi 15 25 ci buttiamo con paracaduta basta in cercare no no c'ha 20 di vita bravo io ho 22 22 dai con 22 di vita c'erano fa per forza sali io consiglio di buttarci con paracaduta l'aereo idolazzo c'è un po' di farlo li vedo dove? ah qua sotto? vado eh mi butto eh ragazzi mi butto ho aiutato uno maria maria non adesso porco demoni è una drappola bruttissima qui ok siamo a 2 v 3 2 v 3 let's go ragazzi quanto è bello buttarste cari e dos la gente nooo ma che stai di? finchè lo fai te è una cosa stupenda poi io uuuuuh cazzata roba c'è stava vabbè da fronte c'è sempre mezzo morto ovviamente che fa in tab e chi ha drappola 3 v1 dunque pampe di goal sono da nerfare 3 v1 madonna sono troppo broken sta roba ma scoppiamolo lo vuoi non scopare io sono troppo forte sta partita no donna no infatti ha ricetto di smettere di usare smettila di usare pampe t90 perché si troppo forte te lo dico eh ma tutto perché io ho salvato rotto non capisci beh non mai tecnicamente salvato io non lo vedo io non lo vedo ah si si lo vedo ahhh sta legna ah 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 è sua va bene salutate youtube per favore grazie ciao ari ciao ari ciao ari ciao ari ciao ari